Abbiamo detto che le strutture pubbliche, ad esempio un'azienda ospedaliera per ricevere l'accreditamento istituzionale, quindi il riconoscimento da parte dello Stato, necessita di avere oltre a tre strutture specializzate anche una struttura dipartimentale. La struttura dipartimentale è l'insieme di strutture e servizi operativi diversi che però perseguono la stessa finalità, lo stesso percorso assistenziale. L'obiettivo qual è? Quello della razionalizzazione dei percorsi collegando i diversi interventi terapeutici, sottoponendo più struttura alla stessa direzione operativa. Questo cosa comporta? Comporta una riduzione dei tempi di attesa e un'assistenza sanitaria lineare. Un esempio di struttura dipartimentale è il DEU, il Dipartimento di Emergenza Urgenza, che è composto dalla centrale operativa, dal pronto soccorso, dal reparto di terapia intensiva, dalla radiologia e dalla chirurgia. Come vedete sono strutture diverse che offrono servizi diversi ma seguono un iter sanitario appunto lineare. Se ad esempio un soggetto fa un incidente e quindi viene chiamata la centrale operativa, arriva l'ambulanza, viene portato al pronto soccorso, poi in base alla diagnosi che viene effettuata in pronto soccorso, viene mandato o in radiologia, o in chirurgia o in terapia intensiva, tutti questi servizi e strutture che io ho elencato fanno parte del DEU, del Dipartimento di Emergenza Urgenza. Quindi come vedete sono tutte strutture e servizi operativi diversi che perseguono però la stessa finalità, quindi la cura e il benessere del paziente.